Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato oggi una nuova poesia dal titolo Maturare. Spero che dopo la spedirete su tutti i vostri contatti Whatsapp. Considerazioni sulla poesia. Ho creato questa poesia dal titolo Maturare perché vedo molti uomini andare in giro inutilmente e perdere così il tempo instancabilmente. Quindi questi bambini mai cresciuti commettono sempre gli stessi errori maliziosi e convinti delle proprie errori e azioni sbagliate. La domanda sorge spontanea. Ma quando crescerete? Quando mostrerete la vostra parte migliore? Quando darete sfoggio e luogo alla vostra attenzione per maturare, per stare meglio? Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Maturare. Vedo uomini vagare, così inutilmente, nel mondo girano per perdere il tempo indelebilmente. Bambini mai cresciuti che commettono gli stessi errori, bambini maliziosi convinti delle proprie azioni e orrori. Ma quando crescerete? Quando mostrerete la parte migliore? Quando lavorerete davvero? Quando mostrerete un po' di senno? Vi consiglio di maturare e di vivere degnamente, perché solo così potrete soddisfare gli ideali maturi con spirito solerte. Grazie e speritelo a tutti i vostri contatti Whatsapp. Arrivederci. Grazie a tutti.